Come sta andando a Closone questo campo scuola? Allora sta andando decisamente bene, se non fosse un po' per il caldo affoso che sta assillando un po' tutta l'Italia in questo periodo, però stiamo riuscendo a far fare attività all'aperto, ma comunque a zone ombrose e comunque stiamo cercando di far bere i nostri ragazzi in modo da non avere dei problemi anche di salute, quindi sta andando veramente bene, veramente bene. Quanti sono? Da dove vengono? Allora sono 54 ragazzi, per la maggior parte dell'altipiano di Closone, perché voglio ribadire che siamo sia ospitati nella città di Closone, ma il campo scuola della zona 17, quindi tutto l'altipiano di Closone, tutti i gruppi alpini dell'altipiano di Closone sono coinvolti. Abbiamo una ragazza che viene da Nembro, che è la più distante, abbiamo qualcuno della zona 18, quindi la zona, parlando di alpini, della zona di Ardesio, Val Bondione, a salire la vallata, e poi ecco prettamente sono di Rovetta, comunque Closone, fino a Cunissungavazzo. Come sono organizzate le giornate? Allora le giornate sveglia abbastanza a mattutina, perché di routine a un quarto alle sette, dopo aver fatto risveglio muscolare, colazione, colazione, poi le rimandiamo in tenda per sistemarsi, affronta la giornata, non può mancare l'alza bandiera, e dopo l'alza bandiera partiamo con le varie attività. Ieri, che è stato il primo giorno, abbiamo fatto la prima parte della giornata addestramento formale, nel pomeriggio abbiamo fatto la prima camminata al di fuori della casa dell'orfano, per saggiare le forze dei nostri ragazzi, per capire dove potevamo spingerci, e ieri sera ci sono stati come ospiti il gruppo del soccorso alpino di Closone, la città di Closone. Oggi invece le squadre sono quattro, innanzitutto, sono suddivise in due, le due squadre, quindi la Giulia e la Taurinense, sono impegnate, come avrete visto, nel poligono, diciamo, usando armi laser, proprio armi che utilizzano anche gli atleti di biatron per potersi allenare, mentre altre due squadre, quindi l'Orobica e la Tridentina, sono con i cinofili del gruppo ANA, gruppo ANA cinofili di Vertova. Anche quest'anno andiamo a toccare i paesi di Castione della Presolana, ovviamente Closone sul territorio con la sua pineta, però anche i paesi di Onore e anche di Rovetta. Dunque, tenendo conto che i gruppi della zona 17 sono nove, andiamo a vedere e a partecipare con i vari gruppi durante le varie iniziative di questi cinque giorni, andiamo a toccare quasi tutto il territorio. Abbiamo visto da vicino appunto come si comporta il cane, il cane impegnato nel soccorso, come si sono comportati anche i ragazzi? Sì, allora diciamo che i ragazzi si stanno comportando molto bene finora, oggi siamo rimasti qua alla casa dell'orfano, abbiamo avuto diverse iniziative, questa mattina abbiamo iniziato con la pulizia della pista ciclabile, ci sembrava giusto tutto ciò e poi abbiamo fatto vedere come funziona un drone, il significato dell'utilizzo del drone e oggi pomeriggio invece siamo andati nella pineta con l'unità cinofila di Colzate per una dimostrazione. Quindi sono cani speciali? In che modo, quando intervengono questi cani? Sì, allora questi cani intervengono durante tutte le catastrofi che ci sono, come quelle dell'Aquila che c'è stata, quella di Amatrice, dunque proprio vanno a lavorare in questi ambienti dove le persone sono sotterrate dalle macerie. Campo Scuola si concluderà domenica a Castione della Presolana, con partenza dalla sede degli Alpini al Parco degli Alpini, ci sarà la sfilata per le vie del paese con tutti i ragazzi che hanno partecipato al Campo Scuola, i galliardetti di tutti e nove i gruppi della zona 17 e anche quelli degli amici dei paesi vicini e poi una volta terminata la sfilata andremo in chiesa, alla chiesa di Castione, per la Santa Messa alle ore 11 e a seguire ci sarà il pranzo con tutti i genitori dei ragazzi che hanno partecipato al Campo Scuola.